La meta da raggiungere è sempre quella di favorire maggiore armonia nel lavoro dei vari dicasteri e uffici al fine di realizzare una più efficace collaborazione in quell'assoluta trasparenza che edifica l'autentica sinodalità e la collegialità. Con queste parole, nell'Aula del Sinodo in Vaticano, Papa Francesco ha aperto i lavori del concistoro alla presenza anche dei 20 nuovi porporati che riceveranno la berretta cardinalizia sabato prossimo. I lavori oggi e domani vaglieranno le proposte del cosiddetto gruppo C9 per l'elaborazione di una nuova costituzione apostolica. Dopo aver espresso gratitudine per quanto fatto fino ad ora, il Pontefice ha ricordato che la riforma, auspicata vivamente dalla maggioranza dei cardinali prima del conclave, dovrà perfezionare ancora di più l'identità della stessa curia romana, ossia quella di coaudiuvare il successore di Pietro. La riforma, aggiunto, non è fine a se stessa ma un mezzo per dare una forte testimonianza cristiana, per favorire una più efficace evangelizzazione, per promuovere un più fecondo spirito ecumenico, per incoraggiare un dialogo più costruttivo con tutti.